Un palleggio a numero 13, vuole attaccare, si ferma, scarico per Golemi, 5-4, deve tirare la Smith, tra poco Golemi, prova a inventarsi un canestro che però non va, e allora parte Tomassoni in contropiede, in solitare, però trova un scarico bellissimo per Santulli, che spegna il 6-22, allunga ulteriormente l'escolino, pronta ad entrare Cerullo per la Smith, intanto Barile, Piaviga che è un sangare che parte, poi lo scarico per Koscianin che va a segnare, subendo anche fallo, bella, esce Belli, ed entra Falorni, Fatto possesso per l'escolino, rimesso offensiva, Tomassoni ancora in campo a gestire gli attacchi, la numero 5, 4, come tentazione, poi riesce a scendere Giorgi, si fa vedere Santulli che deve tirare, perché si scagna il colore del 24, primo ferro e poi ribalzo difensivo per la Smith, che adesso prova a correre, con Barile, adesso Cerullo, si va a avvicinare il canestro per costretto a uscire, perché Koscianin che parte in palleggio, riesce ad andare fino in fondo, subisce fallo, allora sanno due tiri liberi per la numero 13, Sanno due tiri liberi per l'escolino, non si sa come Piacentini, da tre punti sbagliato, l'imbalzo di Koscianin che prova a correre e lui del ritorno di Piacentini, Grazie Grazie